benvenuti dal vostro magari futuro capo dell'associazione a vcza viral corporation e zombie agency sono qui quest'oggi per dirvi alcune cose fatemi prima liberare la zona dalla spazzatura scusato un attimo ok dopo questa piccola breve intru... dopo questa piccola intrusione che perdonatemi credo sia una cosa normale in un'agenzia degli zombie che degli zombie si intromettano nel video robe strane a parte sono qui quest'oggi per informarvi di alcune cose vi starete sicuramente chiedendo di che cosa parla questa agenzia qual è il nostro obiettivo ebbene il nostro obiettivo è quello di informarvi al fine di riuscire a farvi sopravvivere in una possibile epidemia zombie e quest'oggi vi dirò tramite il mio libretto rosso vi dirò alcune informazioni molto importanti come per esempio la parola zombie che cosa significa cosa che non credo che molti lo sappiano il termine zombie scritto zom trattino b oppure zombe è praticamente un cadavere rianimato che si ciba di carne umana viva o morta che sia lo zombe è anche un incantesimo voodoo che resuscita i morti di fatti è anche una divinità voodoo serpentiforme ovvero a forma di serpente e c'è anche un modo di dire per quanto riguarda gli zombie è vero? chi si muove o agisce in modo rintontito? ovvero come uno zombie però non credo che sia questo il caso spero prima di aver ammazzato veramente uno zombie che non fosse uno che torna no queste non sono cose importanti dai quello che avete sentito era sicuramente uno zombie non poteva di certo essere una persona e comunque le domande a cui risponderò in questa serie saranno che cos'è uno zombie? come nasce? quali sono i suoi punti di forza? quali sono i suoi punti deboli? di che cosa hanno bisogno? che cosa vogliono? e perché sono stili all'umanità? e un capitolo a parte sarà per quanto riguarda le epidemie ovvero vi parlerò anche di epidemie ma questo una volta che avrò finito tutto quanto questo discorso mi raccomando scrivetemi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate e se volete vedere nella prossima puntata una sorta di piccola spiegazione scrivetemi un sì o un no nei commenti scrivetemi perché vorreste vedere una cosa del genere e io ve la porterò altrimenti ne parlerò lo stesso la prossima settimana ma questa è un'altra cosa e ora andiamo con le curiosità ebbene esattamente qui in questo momento state vedendo uno dei nostri soldati se così possiamo dire che sta andando alla ricerca di zombie peccato che non è andata proprio come speravamo ehm no per niente ok è stato dilagnato diciamo che quel soldato ha saltato qualche piccola lezione del vostro care vecchio viral ma non preoccupatevi che a voi non succederà eh assolutamente seguite quello che dico e andrà tutto bene come stavo dicendo ditemi qui sotto nei commenti che cosa vi è piaciuto e perché e per il resto ci vediamo se non la prossima settimana quella dopo mi raccomando rimanete sintonizzati e per le nuove reclute se volete potete ancora iscrivervi a VCZA Viral Corporation Zombie Agency a presto da Viral a presto a presto a presto